e vorrei che non si distruggesse in un attimo tutto quello che ha fatto mio figlio speriamo che tutto vada bene che ritorni la pace la pace e ritorna la vita come una volta alla dolcezza di un padre che vede suo figlio costretto ai domiciliari si aggiunge la consapevolezza di un uomo che nella vita ne ha viste tante mimmo lucano stamattina non ha ricevuto nessuno a riace non c'è l'atmosfera festosa dei tempi d'oro e prevale una sorta di rassegnazione tutti hanno come riferimento il primo cittadino sospeso e aspettano con speranza la reazione dei suoi legali che hanno preannunciato un ricorso al tar per chiedere l'annullamento della decisione del viminale ma quello che si coli in generale in paese è un sentimento di tristezza e sconforto ma tu non vuoi andare via da riace io e poi io non posso andare via posso sì non è per me e per i governi d'italia se due settimane ha un problema adesso il bambino non c'è pantalino non c'è niente non mangia sì è un problema quando va all'office tutti qui due settimane non risponde all'office tutti niente intanto il viminale ha precisato che non ci sarà alcuna deportazione gli immigrati saranno liberi di scegliere se restare a riace fuori dagli sprar oppure andare via dovranno autogestirsi e autosostenersi senza più benefici domani ci sarà l'udienza di mimmo speriamo che che i giudici di buon senso perché io ho piena fiducia naturalmente nei magistrati perché ci sono magistrati che sanno perfettamente quello che devono fare con obiettività e buon senso capiscono effettivamente come sono andate le cose Ilario Balì per la CINUS24